I Gnomi Robot Ho bisogno di parlarti Che cosa c'è? Che cosa c'è te lo chiedo io Come si fa a dormire così tanto? Me lo vuoi spiegare? Stanotte avrai dormito come minimo dieci ore Stavo solo facendo un sonnellino Dormire è l'attività che mi riesce meglio Riesca ad addormentarmi in qualunque momento e luogo Mi basta chiudere gli occhi e contare Uno Due Tre No vita! Non hai dei compiti da fare? Sì, qualcuno sì Voglio che tu li faccia subito D'accordo Non ci riesco Sono arrivato Ciao Come sei silenzioso, a cosa pensi? Penso che vorrei tanto essere un calzolaio Un calzolaio? Proprio così, esattamente come nella fiaba Riccardi, una sera un povero calzolaio si addormentò senza aver terminato il lavoro Mentre dormiva però arrivarono gli ignomi che finirono il lavoro al suo posto Sì, certo me la ricordo È una fiaba dei fratelli Grimm Come lo invidio Ti immagini se ci fosse un cioschi che mentre dormo fai il lavoro al posto mio? Sì, che c'è? Sarebbe il massimo, non dovrei più preoccuparmi di... Esiste un cioschi così? Sì, sì, va proprio al caso Ecco Ho sbagliato Oh no La gnomo casa Prima di addormentarti pensi a un lavoro da fare E quando è il momento gli ignomi robot escono dalla casetta e lo eseguono Fantastica, è proprio quello che fa per me Perfetto per i compiti di scuola Non dirmi che ha intenzione di usarlo per i compiti di scuola, eh? No, figurati Però non ho ancora ben capito cos'è che può fare o non può fare Può fare qualunque cosa, non per niente l'ho creato io Quindi accetta richieste di tutti i tipi? Certo Più tardi chiederò in gran segreto di farmi i compiti Mamma, c'è qualcosa che posso fare per aiutarti? No, niente, ti ringrazio Anche perché quando mi aiuti combini solamente pasticci Hai sentito che cosa ha detto? Devi guadagnarti la sua fiducia Stavolta sarà diversa, mettimi alla prova E va bene Visto che insisti Mi ha chiesto di lucidare le scarpe Sì, ma questo posto non mi sembra adatto per fare un sonnellino Ah, non ti preoccupare Uno Due Tre Come fanno a tormentarsi così di molto? È incredibile Ha, non ti preoccupare Eh Ho, oh No, no, no! Robita, svegliati Hanno terminato Guarda Non posso credere ai miei occhi Sembrano quasi nuove, tanto lucicano Funziona ancora meglio di quanto sperassi Gli gnomi robot possono assolvere qualsiasi compito Allora approfittiamone, no? Ok Shizuka, sei in casa? Eccomi Ciao, come mai sei qui? Per caso hai un lavoretto da farmi fare? Un lavoretto? Ma in effetti sei arrivato nel momento giusto Devo togliere tutte quelle erbacce E avrei proprio bisogno che qualcuno mi aiutasse Lascia fare a noi Tu va a riposarti che sei stanca Pensiamo noi al giardino Non volete che vi dia una mano? No, non ce n'è bisogno Ok, in questo caso non insisto E adesso entriamo in azione Uno, due, tre Mi ha portato un po' di tè freddo No, con questo caldo avrete sete Avete già finito È stato facilissimo Sì E allora niente da fare Non riesco a individuare il guasto A me sembra tutto in ordine Che succede? Avete un problema alla macchina? Non disturbateci, stiamo lavorando Se vuoi la posso riparare io Che ridere? La giusterà da chi chiusi invece Uno, due, tre Si è accesa Funziona? Ehi, come è possibile? E tu che non volevi credimi Sei stato grandioso Ricordami di ringraziarti uno di questi giorni Ehi, Nobita Ho visto cosa hai fatto Sei stato bravissimo Puoi riparare la nostra lavatrice Anch'io avrei un favore da chiederti Sì, anch'io Tranquilli Risolverò qualunque tipo di problema Non devi esagerare Sennò stanotte non chiuderai occhio Non preoccuparti Ho abbastanza sonno da accontentare tutti Chi vuole essere aiutato per primo? Fatemi sotto Meno male che abbiamo finito Siamo a casa? Vuoi dirmi dove sei stato? È tardissimo Ho dovuto aiutare degli amici Contavano su di me Sbrigati a cenare Che dopo devi fare i compiti Hai capito? Sì, sì, lo so Secondo me è fin troppo tranquillo Spengo la luce? Sì, grazie Mi fate i compiti, per favore? Ecco fatto Uno, due, tre Perché non dormo? Uno, due, tre Ok, uno, due e tre Non ci riesco Che guaio Non riesco ad addormentarmi Se non faccio i compiti La mamma mi metterà in castigo Hai visto? Che cosa ti avevo detto? È vero, Doraemon Oggi Picchi Avevi proprio ragione tu È logico che tu non riesca a prendere sonno Hai dormito troppo durante il giorno Mi spiace per te, amico Ma devi fare i compiti da solo Gli gnomi possono aiutarti solo se stai dormendo Ecco, alla fine quello che ci rimette sono sempre io Ma perché capiterò sempre tutti a me?